L'argomento della mia riflessione nell'ambito di questo interessantissimo seminario riguarda il punto di vista e la sensibilità di un penalista rispetto alla filmografia di Kubrick. Proprio in questa occasione ho avuto la possibilità di constatare, analizzando con più attenzione i film di Kubrick, a volte sorprendenti collegamenti fra le tematiche penalistiche di fondo, quelle storicamente anche più consolidate, e tematiche di Kubrick anche nell'ambito di film che all'apparenza meno direttamente riguardano i temi della giustizia piuttosto che della criminalità. In particolare la mia analisi si incentrerà sulla dialettica e sulla diade dialettica fra violenza e controllo, che indubbiamente è una grande tematica di Kubrick, proprio perché in fondo in questa perenne dialettica si può leggere l'intera storia del diritto penale e dei sistemi penali che si sono succeduti man mano in collegamento, nelle varie epoche storiche, ma con questa sorta di costante comune non mai superata.